Lord Jacob Rothschild, filantropo banchiere e finanziere, è morto all'età di 87 anni. In una dichiarazione rilasciata oggi, i figli hanno annunciato. Nostro padre Jacob è stato una presenza imponente nella vita di molte persone. Nato nell'aprile del 1936, era senza dubbio alcuno, e di gran lunga, l'uomo più ricco e potente del mondo. Si stima che la sua famiglia, i Rothschild, possieda circa il 90% dei beni del mondo in termini di valore. Solo per fare un esempio, tutto l'oro posseduto dalla Federal Reserve, che è privata e di proprietà di tale famiglia, con piccolissime partecipazioni di altre famiglie alleate. O per fare un altro esempio, il Museo del Louvre, a Parigi, con le opere in esso contenute. Tra cui la gioconda di Leonardo da Vinci. Trattasi, come noto, di una famiglia di satanisti, che fa da bancomata al nuovo ordine mondiale. Se ci siano personaggi al di sopra di Jacob Rothschild è anche probabile, ma si va nel mondo medianico satanista, anche apocalittico, e non in quello economico-finanziario, e sono totalmente sconosciuti. Certamente è stato il padrone assoluto del mondo visibile, con un impero dal valore economico inimmaginabile. Ed inquietante. Impero il cui rappresentante mediatico è lo zio George Soras. Anche gli noto filantropo. Buon viaggio verso compare Belzebul, caro Jacob.